Juve pericolosissima si è arrabbiato moltissimo poi Bernardeschi alla sua maniera che parte largo per andare a chiudere di sinistro e qui Stracoscia mandato in calcio d'angolo prima il palo di Chiedira e poi Bernardeschi non ci arriva qui CR7 che alza anche un po' vedete la mano sinistra tanto rischiando di toccare la palla il calcio d'angolo ancora della